Bentornati a New Generation, nuova settimana, nuova band. Oggi andiamo a conoscere gli Alain Jamal. Ma è rincorrersi felici in mezzo ai prati, per scoprire che in realtà mi siete odiati. La realtà, l'angolo e il virtù con il sospetto, e non voglio dirvi più. La realtà, l'angolo e il virtù con il sospetto. Come un sole che mi esplode nella testa. Alzo gli occhi e sento il cuore dire basta. Mi dissocio dalla vita o ciò che ne resta. E non la uso di più. Gli Alain Jamal nascono a Monza nel 1993, con il nome di Ruth Prabda. E sono attualmente formati da Alberto Casiraghi a Voce e Chitarra, Marco Lucchini alla chitarra, Gianfranco Lucchini alle tastiere, Alessandro Polito al basso e Andrea Ventura alla batteria. Iniziano la loro avventura sulla scena musicale con due tape, Ruth Prabda e Fermo Spento, pubblicati nel 1995 e 1998. Raccolgono fin da subito ottime critiche e suscitano l'attenzione di John Vignola, che li recensirà positivamente su Rockerilla. Stessa cosa farà Federico Guglielmi per Il Mucchio. E sarà proprio Guglielmi a rimanere particolarmente colpito da alcuni brani degli Alain Jamal. Tanto da volerli includere in una compilation prodotta da Il Mucchio Selvaggio, fuori dal Mucchio volume 1, datata 1997. È una soluzione che non sa sbiungere. Un respiro sempre uguale è un silenzio che mi trattiene. E dentro a questo corpo che non riconosco più E dentro a questo corpo che non riconosco E dentro a questo corpo che non riconosco più Che saranno le proprie sonorità Noise, psichedeliche e post-rock Tanto da cambiare il proprio nome in Alange Mal In questo periodo conoscono Fabio Magistrali Produttore di After Hours, Bugo e Marta sui tubi E inizieranno insieme a produrre diversi nuovi brani I quali vedranno la partecipazione di svariati ospiti Come Elena Diana e Gigi Giancorsi dei Perturbazione Saranno lavori che però vedranno la luce solo molti anni dopo Nel 2012 infatti esce il CD di debutto degli Alange Mal Dalla Ruggine, titolo non scelto a caso Quasi ad indicare da quale punto fa ripartire il discorso musicale lasciato in sospeso Dopo un lungo periodo di live in giro per l'Italia e numerose nuove incisioni Il primo marzo 2014 è uscito il nuovo album Non ho niente da sognare Prodotto e registrato sempre con Fabio Magistrali Curatore anche del mixaggio Come ci spiegano i ragazzi della band Con questo nuovo lavoro si ha una svolta nello stile della band Brian Sola Niente più lunghe composizioni strumentali Ma una scaletta che sente l'esigenza di un ritorno all'immediatezza Un suono più spontaneo, comunque sempre stratificato e complesso Grazie a tutti Per tutte le info sugli Alange Mal vi rimando al loro sito ufficiale www.alangemal.com Dove potrete trovare anche le prossime date live in programma New Generation torna la prossima settimana Ma prima di lasciarvi vi ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina facebook O di iscriverci a musicaeparole.info.gmail.com Il brano che state per ascoltare è tratto da Non ho niente da sognare E si chiama Nero Fumo Fondo tenta sopra le rughe E smalto forte per camuffare Il bisogno di essenzialità Contredenza di Nero Fumo Contredenza di Nero Fumo E si chiama 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 Nero Fumo Ripiego i sogni che fanno male E si chiama Nero Fumo 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 E Biamo A la melle a un giallo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.